Grazie a tutti lo staff della popolazione, grazie a tutti voi che siamo la Giampaolo Mirga Band e presentiamo Francesco Ambrosini alla chitarra. Il nostro nuovo partenista, la prima uscita con noi, è soltanto un paio di settimane. Dai, dai, dai! Applausoni! Quest'uomo, questo uomo è il tastiere. Il salatore, Mirga Banducci! Piccati per la morte in miracolo. E a basso alla luce Gianpaolo Mirga, grazie. Ora presentiamo Francesco Giustosti, intitolato L'altra faccia della luna. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione